È una pittura sospesa tra il naturalismo più spinto e l'astrazione, quella di Piero di Cosimo, artista del Rinascimento fiorentino cui è dedicata la mostra allestita fino al 27 settembre prossimo nella Galleria degli Uffizi. Una mostra che prova a fare ordine nella produzione dell'artista, un pittore solitario ritenuto dal Vasari quasi un eccentrico per la sua voglia di rompere gli schemi. Sperimentatore come Leonardo da Vinci che tanto lo influenzò, Piero di Cosimo riesce a tenere insieme il sacro con la tradizione fiamminga le palle d'altare con i disegni sui supporti linei. Ecco questa capacità di lavorare insieme su una lettura proprio quasi realistica se non fosse di troppo, nello stesso tempo portarle tutto su un piano di astrazione è la cosa che io credo determini nello spettatore uno scatto proprio nei sentimenti. Ed è questa voglia di astrattismo che costò all'artista la notorietà e il favore dei potenti del tempo. Con la mostra degli Uffizi realizzata in collaborazione con la National Gallery di Washington, le curatrici, coordinate da Serena Padovani, hanno voluto accendere i riflettori su un maestro il cui ruolo è stato fondamentale per la nascita della maniera fiorentina. Non ha Piero di Cosimo l'esplicito rivoluzionario modo di dipingere che hanno Pontormo, Rosso, Andrea del Sarto, però ha delle premesse molto vicine alle soluzioni iniziali giovanili, per esempio, di Andrea del Sarto.